Ingredienti 300 grammi di pasta 150 grammi di tonno sott'olio Un pomodoro grosso e maturo 50 grammi di olive verdi farcite 50 grammi di olive nere 2 cetriolini sott'aceto 100 grammi di pisellini 1 cucchiaio di capperi 1 limone Olio e sale Preparazione Sminuzzare il tonno e porlo in una insalatiera con i capperi Aggiungere al tonno i cetriolini affettati Le olive e il pomodoro a bezzetti e i pisellini lessati Mescolare delicatamente e unire alla pasta cotta al dente Condire con un'emulsione a base di olio Limone e sale Il piatto è pronto Buon appetito Buon appetito